Musica Elisabetta Scarascia oggi a Troia per un incontro interessante e lei è parte fondamentale di questo progetto, ci vuol dire di che cosa si tratta? Sì, con questa misura del PSR Puglia 2014-2022 sono stati finanziati dei progetti di cooperazione per la realizzazione e promozione di pacchetti turistici enogastronomici, per la promozione del turismo lento e degli itinerari culturali e delle identità locali del territorio. Quindi ci sono diversi partner del territorio che si sono uniti e hanno realizzato questi progetti. Quindi questo serve a migliorare la qualità dei servizi offerti da parte del territorio, garantire la destagionalizzazione del turismo e migliorare la qualità dei servizi offerti, perché ogni partner con il suo contributo può dare un contributo per promuovere il territorio. Ecco, ci sarebbe tanto da raccontare, se vogliamo essere un po' più semplici, pratici, in che consiste effettivamente poi, che cosa sarà realizzato? Sì, appunto, questi pacchetti turistici che vengono promossi attraverso il sito web della rete, attraverso eventi di promozione come questo, questo è l'evento conclusivo di questo progetto, attraverso i social network, quindi Instagram, Facebook, ma anche attraverso i liste holders che saranno presenti qui oggi, immagino, che porteranno all'esterno, faranno conoscere anche all'esterno quello che vuole offrire questo territorio dei Monti Dauni. Gloria Fazia, il FAI provinciale a Troia in questo evento conclusivo bisogna promuovere il territorio e quindi non poteva non esserci anche il FAI che di promozione ne ha a conoscenza fin troppo direi. Allora, noi come FAI, parlo del FAI nazionale, ma in piccolo anche come delegazione di Foggia, seguiamo con molto interesse queste iniziative e quando possiamo essere utili siamo felicissimi, e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni, quindi aiutare a promuovere questo territorio e direi soprattutto i Monti Dauni, che è un progetto che sta molto a cuore, al FAI nazionale, che l'ha varato qualche anno fa, si chiama il progetto Alpe, che tende a promuovere e valorizzare i paesi a oltre 600 metri. Siccome noi in Puglia abbiamo soltanto la provincia di Foggia che può vantare queste cime, ci siamo applicati già diffondendo, realizzando giornate FAI di primavera e d'autunno. Questa è un'ulteriore occasione per testimoniare il nostro interesse e dare ovviamente la nostra disponibilità. Quando si promuove un territorio utilizzando gli elementi artistici, naturalistici e in questo caso enogastronomici, è sempre una bella conquista per la nostra terra. Approfittiamo per conoscere quali saranno i prossimi appuntamenti invece del FAI. Primavera, estate, autunno, insomma. Allora abbiamo fatto le giornate FAI di primavera con ben nove località, quindi è stato molto impegnativo, ora ci aspettano le giornate FAI di ottobre, di cui ancora non abbiamo la contezza. Però io voglio ricordare proprio in questa sede che è partita ieri la campagna dei luoghi del cuore, che si concluderà a dicembre. Questo significa che le comunità che si devono organizzare in comitati molto semplici, non necessario andare dal notaio, ma in comitati, che debbano raccogliere firme per salvaguardare un luogo del cuore. Può essere una piazzetta, un piccolo monumento, qualunque cosa cara alle comunità. E la provincia di Foggia ha una tradizione eccezionale, perché nelle scorse edizioni luoghi del cuore ci siamo sempre o quasi sempre classificati ai primissimi posti e abbiamo ottenuto finanziamenti, per cui la ricaduta sul territorio è importante. Quindi è un invito che io faccio a mobilitarsi, a identificare i luoghi del cuore e a attivarsi per raccogliere le firme. Ci vuole tanta fatica, però vale la pena. Come partecipare? Come trovare le indicazioni giuste? È facilissimo, innanzitutto si va sul sito del FAI, i luoghi del cuore, si ottengono delle informazioni minime. Ripeto, è preferibile riunirsi in un comitato, scrivere al FAI che si aderisce a questo comitato. E poi raccogliere firme sul luogo che si è scelto. Che dirvi, quando a Torre Maggiore hanno scelto come luogo del cuore fiorentino, sono andati sulle spiagge a raccogliere le firme. O quando Lucera hanno scelto l'anfiteatro, sono venuti anche dall'America i fogli con le firme. Quindi bisogna veramente raggiungere i 20.000 firme. Lì abbiamo possibilità di vincere. Ripeto, abbiamo vinto per Pulsano, abbiamo vinto per San Paolo di Civitate, per Bovino, per Lucera. Quindi, insomma, ce la possiamo fare. Mario De Angelis, oggi a Troia si chiude un ciclo di eventi che hanno portato a dei risultati importanti. Quali e qual era il progetto iniziale? Allora, intanto il progetto iniziale era quello di tentare di mettere insieme un'offerta turistica sui nostri territori dei Monti Dauni. Il progetto è stato calibrato all'interno della misura 16.3.2, che prevede appunto il progetto di cooperazione e prevede appunto la possibilità di valorizzare territori marginali, aree depresse. Per cui mi sembrava giusto come, diciamo, operatore, diciamo, tra virgolette turistiche, ma anche operatore forestale, in ambito anche del progetto e soprattutto collegato al progetto che stiamo già facendo su Biccheri, chiamare altri partner per poter eventualmente candidarci a questo progetto, che oggi chiude, diciamo, l'evento, con questo evento. Qui il tema principale sarà quello del vino, che sarà il filo conduttore della giornata conclusiva di questi eventi e dove insieme al cibo proviamo a raccontare una storia che appunto riguarda i nostri monti. Ecco, i monti Dauni ultimamente sempre più attenzionati per tante belle realtà, tra i borghi più antichi, più belli, insomma, è un posto in cui valorizzarlo ancora di più. Che cosa servirebbe per migliorare ancora la qualità della vita sui monti, ma anche l'attrattività turistica? Beh, la consapevolezza di quello che abbiamo, la prima cosa è quella, noi siamo partiti appunto da quello che abbiamo e stiamo cercando di valorizzarlo. Chiaramente ci sono tante cose che potremmo fare, ma il valore aggiunto di questo territorio sono le comunità. Se noi mettiamo al centro le comunità e sappiamo fare rete tra di noi, molto probabilmente nel giro di qualche anno riusciamo a coprire quel gap che per anni purtroppo ci ha penalizzato. Non c'è una cultura turistica vera e propria, non c'è una tradizione turistica, non c'è una vocazione turistica, ma abbiamo una vocazione, quella legata alle nostre comunità, cultura e tradizioni. Per cui possiamo partire da quello per poter immaginare di costruire un'offerta turistica fai da te. Però quando parliamo di offerta turistica fai da te è soprattutto perché oggi abbiamo un turista consapevole, determinato a essere protagonista della propria vacanza e quindi anche della conoscenza. Noi puntiamo soprattutto su questo. Chiudiamo. I risultati cominciano ovviamente a ottenersi perché anche le comunità locali stanno cominciando a capire che se si sta insieme si raggiungono anche dei risultati utili. Sì, chiaramente noi parliamo in un territorio in cui ci sono strumenti come il GAL, come le aree interne che in questo momento si stanno applicando e stanno effettivamente concentrando tutte le energie perché si possa innanzitutto cominciare a fare rete e fare rete significa soprattutto mettere insieme le proprie debolezze che poi diventano una forza. Quindi all'interno della cassetta degli attrezzi, come dice qualcuno, ci sono tante, tante, tante veramente peculiarità, tante risorse, tante eccellenze. Bisogna avere l'umiltà di saperle mettere insieme e soprattutto di saperle promuovere. Sindaco, oggi a Troia si chiude un ciclo di eventi che valorizza il territorio, valorizza l'aspetto turistico e no gastronomico ma bisogna fare rete, bisogna essere insieme sempre di più. Pare, io sono anche un po' provocatore, pare che finalmente i paesi dei Monti Dauni finalmente pare che si stiano mettendo con la testa a pensare di lavorare bene insieme per il territorio perché probabilmente con i risultati che si possono ottenere anche gli stessi territori possono avere degli sviluppi non solo economici ma anche di turismo. In effetti hai ragione, quando dici pare che si mettono tutti insieme, noi in effetti siamo già tutti insieme, già da diverso tempo, saranno 7-8 anni, sei benissimo con la costituzione dell'area interna che è fra le più grandi d'Italia, 29 comuni. E comunque voglio ricordare che il discorso del mettersi insieme, il discorso del campanile è un discorso tipicamente meridionale, è una questione culturale. Noi grazie a Dio la stiamo superando e come in tutte le cose ci deve essere sempre qualcuno che prende l'iniziativa al momento giusto. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un personaggio che ci ha spinto, che ci pungola continuamente che è Mario De Angelis che prende queste iniziative sul discorso dei boschi, su queste cose importantissime perché noi abbiamo un patrimonio boschivo e paesaggistico che ce lo invidiano tutti, in tutta Italia e quindi mettiamo a frutto queste ricchezze sconosciute perché possono dare tanto anche a livello occupazionale. Bovino, il contributo per queste iniziative cosa vuol dire per il futuro? Cosa c'è in cantiere? Allora, Bovino, noi a livello di boschi come proprietà comunale abbiamo pochi, però c'è tanto bosco privato e si può lavorare. Io già ho cominciato a intraprendere le iniziative, convocando anche delle riunioni per far sì che si possano sfruttare questi boschi con prodotti di sottoboschi. Sono tanto ricercati ma purtroppo ad oggi ancora non hanno preso, come dire, la giusta considerazione, non hanno avuto la giusta considerazione. Noi dobbiamo lavorare, crediamo fortemente su queste iniziative, abbiamo già intrapreso altre iniziative a livello enogastronomico. Sapete tutti che Bovino ha degli ottimi punti di ristorazione con prodotti veramente locali e quindi noi dobbiamo procedere su questa strada, questa è la strada giusta. Purtroppo siamo stati bloccati questi due anni di pandemia che ha fermato tutto, ci ha fatto ritornare indietro praticamente, però adesso si riparte e a testa bassa bisogna andare avanti. Monteleone di Puglia oggi presente con il Presidente del Consiglio in questo evento di chiusura, ma Monteleone fa parte dei Monti Dauni, quindi quale migliore occasione partecipare a questi incontri. Questo è un progetto che va oggi a chiudersi ma è la maniera per valorizzare ancora di più il territorio e l'enogastronomia per favorire sempre di più il turismo. Monteleone nel contesto cosa sta facendo, cosa ha fatto? Diciamo che oggi è la giornata di chiusura, però secondo me oggi si apre un nuovo scenario che è quello della valorizzazione appunto dei prodotti che sono del nostro territorio e dei Monti Dauni. Noi siamo marginali, fra virgolette, diciamo, al contesto forestale, però è vero anche che da qualche anno a questa parte il nostro comune, grazie anche alla presenza di Mario De Angelis, abbiamo messo in piedi una serie di iniziative per valorizzare il nostro bosco, che ha un valore molto importante. Basta solo ricordare che nel 1142 Ruggero II d'Altavilla ha tenuto lì, in quel bosco, le famose assise e quindi, diciamo, di lì abbiamo anche noi iniziato un percorso per la valorizzazione dei boschi, quindi di quella che è il contesto forestale. E quindi la giornata di oggi è importante perché, diciamo, aggancia e mette insieme in rete tutti questi comuni dei Monti Dauni, quindi tutti i comuni delle aree interne, indipendentemente dalla quantità dei boschi o delle foreste che ci sono, però mette insieme questi comuni ed è un percorso, secondo me, diciamo, lungimirante perché farà in modo tale che i nostri comuni attraverso queste iniziative possano crescere e possono attrarre turismo. Il nostro comune a 850 metri è un po' penalizzato perché non è collina e non è alta montagna dove si può pensare ad una pista da sci, si può pensare ad altro. Quindi da questo punto di vista abbiamo delle penalizzazioni, però proprio da questo punto di debolezza possiamo farne un punto di forza. Insieme agli altri comuni, naturalmente chi farà da attrazione, sicuramente faremo il modo tale che anche gli altri comuni possano beneficiare di tutte queste iniziative e di queste attività. Con Marina Paolucci, coordinatrice del progetto, in breve, questo progetto nasce perché e come ha funzionato visto che oggi è la giornata di chiusura? Sì, oggi è la giornata di chiusura di questo progetto, un progetto del piano di sviluppo rurale della regione Puglia che ha voluto dare questa opportunità al territorio facendolo lavorare insieme, è un progetto di cooperazione una misura 16, 16.3.2 che voleva in un certo senso costringere gli operatori di un territorio a lavorare insieme e insieme a trovare la via per il proprio sviluppo, per la propria crescita. L'opportunità era quella di creare delle strategie per promuovere il territorio e per promuovere le proprie aziende attraverso dei pacchetti turistici che mettevano insieme diversi settori come quello forestale infatti il nome è Forest for Food, cioè quello che può fare la foresta, la gestione forestale per poi il settore agricolo, cerealicolo, vitivinicolo e oggi chiudiamo appunto dando e saltando quello che è invece le produzioni tipiche di questo territorio, in particolare il vino con il nero di Troia. Io utilizzo un suo termine, ha costretto il territorio, è un territorio che le dico da un po' ha finalmente capito che bisogna essere insieme, quindi voi avete contribuito a questo risultato. Noi abbiamo risposto a un invito, a un bando della regione Puglia che attraverso questa misura appunto la misura della cooperazione voleva come dire come giusto che sia, cioè il legislatore aveva proprio questo in mente partendo proprio anche dal regolamento europeo e per poi scendere chiaramente alla declinazione del bando che non tutte le regioni hanno attivato questa misura e la regione Puglia sta lavorando molto bene proprio su questo intento, cioè quello di mettere insieme gli operatori di diversi settori e quindi il bando in un certo senso come adesso i bandi, il piano svilupporale dico che è diventato poi la programmazione non è così perché non dovrebbe essere, però in effetti ha sostituito molto la programmazione. Quindi la programmazione è proprio questo intento, cioè di costringerli bonariamente, un termine che uso proprio per dire che per farlo era necessario fare un accordo di cooperazione e quindi li ha fatti mettere intorno a un tavolo, li ha fatti ragionare, discutere, quindi questa fase iniziale di concertazione fino alla costituzione di un accordo di rete proprio per sviluppare questo progetto e questo chiaramente da questo può nascere tante altre sinergie, tante altre cose perché questo è solo il punto di partenza. Con il professor Massimo Monteleone, oggi a Troia, l'università ha fatto anche il suo, come? L'università ha fatto il suo ma soprattutto nel contesto territoriale. Io sono molto contento di essere qui questa mattina come ospite, in questo caso non siamo parte di questo progetto ma mi sembra questo un modello su cui noi come università anche puntiamo parecchio, ossia questa visione di aggregazione per esempio anche tra filiere differenti, qui in qualche modo si sposa una felice connubio tra le attività forestali, le attività agricole, l'enogastronomia, ecco questa visione reticolare, questa forte integrazione fra delle attività che rappresentano lo specchio del nostro territorio, questa alleanza, questa capacità di riuscire a progettare insieme in un contesto territoriale che offre molto da tutti i punti di vista, quindi non soltanto nelle attività produttive ma anche da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista dell'offerta turistica, ecco questo secondo me è un modello che università o meno, ecco il territorio deve assolutamente promuovere e su questa linea di sviluppo, su questo concetto, io penso che l'università è assolutamente parte integrante di un, come dicevo, di un modello che propone il territorio nella sua generalità, con tutti i suoi gioielli potremmo dire però ecco quello che è importante che fa la differenza è l'intesa che si stabilisce tra diversi imprenditori tra diverse filiere produttive e questo rappresenta un elemento di forza che è in grado di esporre il territorio e di aumentare le capacità che il territorio ha di essere punto di attrazione, soprattutto in un momento come questo in cui, lasciatemi dire, i margini diventano centro, cioè vi è, come posso dire, la consapevolezza che le cosiddette zone di margine noi non ci consideriamo tali, ma beh, da un punto di vista socio-economico così sono considerate oggi rappresentano un nuovo punto di attrazione, un forte, come posso dire, riferimento di interesse non soltanto dal punto di vista della fruizione turistico-culturale, ma proprio come modello di vita che rappresenta qualitativamente qualcosa di diverso e che noi dobbiamo evidentemente valorizzare al meglio Sindaco Mignogna, Biccari è parte di questo progetto, se vogliamo le foreste un po' sono partite anche da questa idea del parco avventura, da un'avventura, insomma una bella iniziativa che ormai sono anni che va avanti per oggi e rientriamo in questa chiusura di questo progetto, di questo PSR Puglia 2014-2020 un'occasione in più per il territorio. Sì, questo è stato un progetto importante perché ha rafforzato la nostra strategia di promozione del nostro bosco attraverso il coinvolgimento di tanti partner privati che in questo momento rappresentano il valore aggiunto del nostro territorio. Per noi amministratori pubblici avere la possibilità di mettere nelle condizioni le eccellenze no gastronomiche del nostro territorio, di farsi conoscere, di valorizzarsi e di lavorare di pari passo con noi è assolutamente strategico. Finalmente i Monti Dauni sono parte integrante di tanti progetti ma sono finalmente anche messi insieme come aria interna, insomma hanno deciso finalmente di capire che con la forza, con l'unione qualcuno dice si va avanti. Il nostro è un territorio ricchissimo di risorse che sta lavorando molto, ci sono tante amministrazioni al lavoro, c'è l'assemblea dei sindaci permanente della strategia nazionale delle aree interne che...